. Chiocciolati o con accento circonflesso. Chiocciolati xa o barrata copyright news 1. . O con accento circonflesso 7 barra verticale marchio registrato chiocciolati o con tilde y con accento acuto sns it islandese ax negazione a con dieresi u con dieresi h o barrata 4 a con dieresi a con dieresi u con dieresi h negazione t apostrofo. . . Txp euro e t islandese 0 tt. . 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